Non sempre l'ira esplode specialmente nei soggetti vendicativi e a volte diventa un tormento interiore producendo amarezza e sfiducia verso tutto e tutti. L'ira suscita sentimenti di odio e di ventetta che non si possono correggere se non con la carità e l'amore di Dio. Nel nostro tempo l'indignazione dei popoli poveri si proietta contro i popoli ricchi che per secoli hanno mantenuto in schiavitù e sfruttando molte generazioni. Vediamo il risentimento degli extracomunitari che chiedono giustizia perché hanno fame e trovano il razzismo. Di conseguenza vogliono liberarsi dalla colpa del fratello Caino. È un sentimento legittimo di giustizia, fuori di ogni logica di odio e di ventetta. Le cause giuste vanno portate avanti in modo giusto. Per la morale cristiana, acidioso è chi non si cura di compiere un cammino spirituale. Volendo indicare dei rimedi contro l'ira, possiamo segnalare alcuni rimedi che possono prevenire o modificare la collera come un regime alimentare adatto, la doccia, l'astinenza delle bevande alcoliche. Vi sono i rimedi immorali, riflettere prima di operare, distrarsi pensando ad altro anziché a ciò che eccita la collera, non ricordare le ingiustizie ricevute, invocare l'aiuto di Dio. L'accedioso rinuncia a riflettere con la sua mente e per lui pensa la televisione, la radio, i giornali. Per l'accedioso, le domande essenziali della vita sono trascurate o stimate insignificanti. Ciò che conta è il successo, gli affari, il denaro. Perché preoccuparsi della vita futura? Perché faticare per gli altri? Sono i governi e le istituzioni che devono risolvere i vari problemi dei bisognosi. L'accedioso sta seduto e pensa solo a se stesso. È necessario riscoprire i valori dei quali tutti sentiamo la necessità. Uno dei casi più diffusi e nocivi di acidia da lavoro è quello che va a danno della famiglia. Spesso la passione della carriera o per il successo fa dimenticare i figli. I genitori pensano di voler bene ingozzandoli con dolciumi e vitamine, ma trascurando di parlare e giocare con loro. Le sgridate di Padre Pio possiamo confrontarle con le infettive di Gesù, razza di vipere e sepolcri impiancati. Nel testamento di San Francesco leggiamo «Ed io lavoravo con le mie mani e voglio fermamente lavorare. Voglio che lavorino tutti i frati di onesto lavoro». Se notava qualche frate che perdeva tempo lo chiamava frate Mosca perché manciava sul lavoro degli altri. Le frequenti sgridate di Padre Pio fanno pensare alla sagra ira. «Questo è paganesimo, siete pagani!» Padre Pio gridava spesso così al riguardo diceva «Mi sono turbato solo alla superficie, ma dentro nel cuore c'è sempre tanta calma e tanta serenità». Pio gridava spesso così al riguardo diceva «Ed io lavoravo con le mie mani e voglio fermamente lavorare». Pio gridava spesso così al riguardo diceva «Ed io lavoravo con le mie mani e voglio fermamente lavorare». Pio gridava spesso così al riguardo diceva «Ed io lavoravo con le mani e voglio fermamente lavorare».